probabilmente un'anomalia alla morsa che tiene unite le due estremità della fune. Da giorni nella cabina si sentivano strani rumori ma sul diario di bordo dell'impianto non erano stati annotati problemi. Vediamo i servizi degli inviati Jacinto Pinto e Giuseppe Lavenia. I fili d'acciaio si confondono con i fili d'erba. Questa è la sezione spezzata della fune, il punto in cui è acceduto. Un documento che il Tg1 è in grado di mostrare per la prima volta. Il cavo trainante della funivia non è tranciato di netto ma sfilacciato in centinaia di filamenti. Il punto di rottura coincide con la testa fusa, il cono che tiene unite le due estremità della fune. In questo video alcuni tecnici ne preparano uno, i fili rinchiusi nella morsa e cementati. Gli investigatori sono ormai convinti che proprio la testa fusa abbia ceduto, facendo aprire la fune. Anche perché, secondo l'ultimo rapporto inviato al Ministero, il cavo trainante risultava in buono stato. Eccolo il congegno. È incastrato dentro un albero non lontano dai rottami della cabina. I gestori dell'impianto avrebbero dovuto sostituirlo tra cinque mesi. Resta da capire se l'anomalia che la cabina segnalava dal 26 aprile e che faceva scattare il freno d'emergenza fosse legata proprio alla testa fusa. Tutti i dipendenti, ascoltati anche oggi dai carabinieri, sapevano che la funivia aveva dei problemi ma nessuno aveva fatto richiesta per un intervento di riparazione. Lo testimonia anche chi è salito tra gli ultimi sulla cabinovia del Mottarone. Poi salendo era sempre tipo un rumore questo ballare di questa cabina perché comunque era sempre tipo un percorso dove uno si molleggiava un pochettino. Quei suoni sinistri ogni due o tre minuti, quel giorno gli udì anche Gabriele Tadini. Il direttore dell'impianto di Stresa annotò il falso nel registro giornale parlando di esito positivo dei controlli sul funzionamento dei freni. Lo scrivono i PM nella richiesta di custodia cautelare ma anziché fermare l'impianto e fare manutenzione scelse di disattivare i freni d'emergenza per continuare a lavorare. Sì, ha corso il rischio ma, ripeto, lui mi ha detto chiaramente l'ultima cosa al mondo che avrei pensato, lo dice una persona che lavora in questo settore da 38 anni, era che si potesse rompere il cavo traendo. Pentito è pronto a confermare nell'interrogatorio di domani davanti al giudice di aver disattivato i freni di emergenza. Gabriele Tadini, l'uomo che con la sua confessione ha fatto scattare gli arresti, dal carcere ammette l'ho fatto più volte e non avrei mai immaginato che la fune si potesse spezzare. Il perché di quella scelta scellerata la spiega al suo avvocato. C'erano stati dei problemi tecnici sulla funivia e si stava cercando di intervenire in svariati modi e questo è stato uno dei modi per intervenire scelto dalla... Lo ha scelto Tadini ma i vertici della funivia erano al corrente come se lo spregio della vita umana di cui parla la procura fosse stato condiviso senza che nessuno si opponesse al rischio quotidiano a cui sottoponevano gli ignari passeggeri. Sapeva il gestore Nerini, sapeva il direttore per occhio. Il primo dal carcere dice di pensare solo alle vittime, a quelle famiglie che hanno perso la vita nella sua funivia. I miei figli viaggiavano su quelle cabine e come avrei potuto sottoporli a un rischio simile? Mi ha detto che i fatti si accertano nelle aule. Con la struttura sotto sequestro sono fermi anche gli impianti del parco divertimenti che gestiva sul Mottarone. La grande croce sulla vetta domina una montagna ormai deserta. Consapevoli e senza scrupoli così li dipingono i magistrati. Enrico per occhio, terzo indagato, nega tutto e ribatte. Non sapevo nulla, non avrei mai condiviso una scelta suicida. Torneremo più tardi sulla tragedia della funivia di Stresa. Adesso la politica.